ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del tagliagole oggi ragazzi insieme andiamo a vedere cosa è successo all'amico alessio marsili che ha avuto dei problemi piuttosto dolorosi con due folder della geotech via eccoci qua ragazzi prendo al volo l'assist passatomi dall'amico alessio mi chiedete in tantissimi dei geotech di questa marca spagnola di coltelli io continuo a dirvi che secondo me sono prodotti che non valgono quello che costano io ho provato solamente il 18 ragazzi perciò posso dirvi quello che ho provato però secondo me non vale assolutamente i soldi che costa e soprattutto adesso dopo appunto quello che è successo all'amico alessio che adesso vi spiego ragazzi la mia diciamo considerazione verso i geotech è addirittura scesa e parecchio cosa è successo all'amico alessio lavorando con un chiudibile ragazzi il coltello ha ceduto sul blocco lama e gli si è chiusa la lama sulle ditine ragazzi ci siamo presi un bel taglione e dei punti ragazzi quando si parla di coltelli stiamo sempre parlando di strumenti da taglio che se cedono se si rompono se il blocco lama non è fatto alla perfezione ma si va veramente a costruire dei coltelli giusto per costruirli e venderli ragazzi il blocco lama può cedere il coltello può rompersi e sotto c'è la vostra manina non ci si pensa mai quando mi dite ma a te mi fai vedere solamente i coltelli che costano toti io voglio prendere il coltello che costa poco io uso il coltello di mio nonno preso alla bancarella di topo gigio lo uso per tutto non mi si è mai chiuso sulle mani va benissimo va benissimo ragazzi potete usare quello che volete il consiglio mio è se dovete usare un folder sul lavoro e non avete la possibilità di usare un fisso io come ho sempre detto sul lavoro anche in magazzino meglio sempre un piccolo fisso che se anche fate forza non vi si chiude ma se dovete andare per forza ad utilizzare un chiudibile sul lavoro secondo me ragazzi a livello del triad lock di core steel al momento non c'è nulla questo lo potete sbattere dove volete questo non si chiude ragazzi adesso vi metto la facilità con cui al table test si chiudono i chiudibili della geotech via video allora geotech 17 si apre bene 1 2 3 geotech 16 si apre bene siamo 1 2 3 grazie mille alessio per il video perché parlare una cosa vedere è un'altra ragazzi provate voi a disingaggiare non vi faccio neanche la prova non vi faccio nemmeno la prova di disingaggiare un triad lock di core steel non lo disingaggiate anzi più pestate più diventa duro da disingaggiare dopo perché ragazzi sono costruiti appositamente per scaricare le forze che arrivano sulla lama non le vanno a scaricare sul bilanciere ma le vanno a scaricare nella manicatura quindi il bilanciere non viene messo sotto pressione e non rischia di saltare andate a vedere il video che ho fatto sul triad lock che lo spiega molto bene ragazzi se dovete usare un folder sul lavoro col steel mi raccomando non hanno prezzi esagerati ormai è cresciuto tutto ragazzi però col blocco triad lock siete tranquilli che chiudibile anche messo sotto sforzo non vi trincia le vostre ditine perché se chiudibile si chiude ragazzi sotto c'è la vostra manina ok e la manina si taglia poi si può chiudere in mille circostanze in mille modi in mille utilizzi se vi si chiude la vostra manina comunque si taglia ragazzi e si taglia pesantemente all'amico alessio è andata bene se hai preso solamente un punto e un po di cerottate però ragazzi ripeto se dovete comprare un chiudibile non andate sull'economico soprattutto se il chiudibile lo dovete usare sul lavoro quindi se lo dovete usare seriamente non state a vedere veramente il 10 euro più 10 euro meno lo prendo lo metto in bacheca è bello tutto ragazzi è veramente bello tutto però se lo dovete utilizzare un prodotto fidato che in mano non vi si chiude ragazzi perché questo non vi si chiude in mano non l'altimate hunter in generale col tread lock di costil dico ragazzi andate su quello andate sulla sicurezza andare su prodotti economici visto come lo chiedete sempre i geotec i geotec i geotec ragazzi adesso li avete visti anche voi eh ma io ce l'ho ma io gli faccio io l'ho sì fatto sta che con una botta al table test salta il table test non ha valenza perché non serve a niente da ricolpi sopra il dorso della lama va bene va bene però che salti con così tanta facilità significa che il blocco lama non è stato studiato proprio benissimo ragazzi ha un ingaggio minimo e quindi salta anche perché ho visto dei frame saltare al table test ho visto dei liner saltare al table test però un backlog che salta al table test ragazzi sinceramente non me lo sarei aspettato nemmeno io detto questo ragazzi se ancora volete sapere dei geotec vi dico io ho provato il 18 secondo me non vale quello che costa ragazzi sui chiudibili l'avete visto quindi non vale nemmeno la pena prenderli in considerazione consiglio mio spendete qualche soldino in più e lavorate sicuri sia con i fissi che con i chiudibili poi ci sono prodotti economici che funzionano benissimo ma lì bisogna sapere cosa scegliere non pensate come dico sempre che spendo poco frego tutti perché io sono il più furbo c'ho il coltello di zio topogito già due euro e fa le stesse cose di quello che fa il costino no perché fa le stesse cose finché va tutto bene ma le ditine sono le vostre e avete due maniere ragazzi poi la fidanzata deve farsi toccare il culetto dagli altri perché le vostre manine le avete perse perché avete preso un coltello che alla fine ragazzi non è a sicuro mi raccomando soprattutto nei chiudibili andate di sicurezza ragazzi andate secondo me di try a block ragazzi da questa chiacchierata su quello che è accaduto al povero alessio che però ringrazio per aver condiviso la sua esperienza al parquetto il taglia a gol è tutto buona giornata e ciao